Questo è un buon segnale, perché vuol dire che non fai solo atto di presenza, ma vuoi effettivamente andare a chiudere. Il Bruges per ora l'era e l'ha rimasto, però mi viene da pensare che l'aver rilanciato subito e il fatto che hai perso Botman e non puoi effettivamente farti bagnare il naso un'altra volta, mi fa pensare che prima o poi The Keter si chiude. Però è meglio dire prima o poi.